Buongiorno gente e benvenuti in questo nuovo video sul mio canale, oggi parliamo di Mac, di tutta la line up Mac che potrebbe essere presentata, non nel 2022 perché per quello ci sarà un video lungo, bello, lungo, che è ben iscritto, ma di quello che potremmo vedere di Mac all'evento dell'8 marzo. Già negli ultimi due giorni sono uscite delle cose molto interessanti, ma si parla veramente di un sacco di Mac teorici, perché al massimo presentano due, però si parla di tanta roba, potrebbe essere presentata qualsiasi cosa, perché abbiamo due opzioni. O presentano l'M2, presentano due Mac, al massimo tre Mac con l'M2, oppure vanno sui prodotti professionali e viene una figata, sapete perché? Perché potrebbe arrivare il Mac Studio. Ebbene sì, è da due giorni, sicuramente lo sapete, che si parla di un nuovo Mac, quello che noi definivamo Mac Mini Pro, quindi un Mac Mini più professionale, che invece si chiamerà Mac Studio. Studio che sarà un prodotto super professionale, un Mac Mini, cioè un po' più grosso di un Mac Mini, non modulare, un Mac Mini, la stessa modularità di un Mac Mini, con un sacco di porte, tipo il Mac Pro, super potente, con un M1 Max super potenziato. E ovviamente sarebbe un Mac Pro Mini, non più un Mac Mini professionale, ma un Mac Pro più piccolo. Che figata, mi piacerebbe un botto, perché Apple ci aveva già provato, ci aveva già provato con il G4 Cube, che non fu un gran fallimento, cioè fu un gran fallimento nel 2000. Steve Jobs ci provò già anche con la Next, uno dei primi computer che presentò proprio con la Next, era un concept del genere, quindi un computer professionale piccolo e di design. Perché sappiamo che Steve Jobs aveva questa cosa del design, che io concordo pienamente, il prodotto deve essere bello sia dentro che fuori, e quello era bello sia dentro che fuori. Quindi potrebbe archivare questo nuovo Mac Studio. Sì, perché no? Perché non farlo, Apple? Sì, mi gaza un botto, quindi mi gazzerebbe un sacco vederlo presentato, ma no, perché si dice che verrà presentato con un nuovo monitor, figo, non abbiamo ancora capito se potrebbe essere quello più economico, XDR 4K su 2000, oppure uno 7K, se dice ancora più figo, 30 pollici. Quindi, vabbè, se non verranno presentati nell'arco di uno o due anni, tutte e due, però, boh, vedremo, vedremo, vedremo. Quindi, questo Mac Studio si sa poco e nulla alla fine, giustamente, perché alla fine è in giro da qualche giorno, l'hanno rilasciato da pochi siti, ma affidabili, cioè, ci ha fatto menzione anche 9to5Mac, e se lo dice 9to5Mac, è ufficiale che esce prima o poi. Se lo dice 9to5Mac, io mi fido ciecamente, è un po' come, cioè, come John Prosser, John Prosser non lo sentiamo da un po', solamente dopo l'iPhone 14 l'hanno chiuso a qualche parte, e no, quindi questo è un po' quello che si dice. Mentre, gli altri Mac, come abbiamo già parlato negli ultimi video, dovremmo avere un Mac Mini, un Mac Mini normale, quindi con M2. Boh, io, cioè, non ho così tanto hype per un Mac Mini, per quanto io lo trovi un prodotto fantastico, resterà un prodotto fantastico, potrebbe essere anche un bel regalo. Beh, secondo me, se presentano anche un bel monitor economico, a me piacerebbe molto, Peak Performance, non parla di questo, però Peak Performance, proprio uno spirituale performance, quindi potrebbe, cioè, avrebbe senso anche vedere i prodotti professionali come Mac Studio, torniamo sempre lì alla fine, eh, perché alla fine questo nome potrebbe avere due cose, perché o presentano M2 o prodotti ancora più professionali, ma con M2 potremmo avere anche un Mac Pro 13 o 14, anche quello sarebbe figo, che, alcuni dicono, prenderà la nomea di Macbook SE, no, perché il Macbook SE potrebbe diventare quello che ora è il Macbook Air M1 appena presentano, il Macbook Air M2. Quello magari gli dà una sistematina, gli metti le M2, però gli lasci le altre cose e lo chiami SE, gli viene una figata, secondo me, per la gamma SE, se la metti così, ti viene molto figa, secondo me, eh, poi c'è chi dice, no, no, per carità, no, la gamma SE deve restare quella che c'è sull'iPhone, secondo me non è vero, la gamma SE, Apple se la può gestire, la, dobbiamo un po' capire a cosa si associa, se ormai non è più ai prodotti piccoli, potrebbe essere sicuro ai prodotti economici, ma come categorizzi i prodotti economici a livello di design o a livello di potenza? Per Apple Watch SE, tipo, c'aveva il processore più vecchio e il design nuovo, quando è stato presentato, l'iPhone SE il contrario, quindi processore nuovo e design vecchio, è un po' sempre da capire, di prodotto in prodotto. MacBook Air M2, non ci sarà l'evento, ne siamo oramai tutti sicuri, fortunatamente, forse, non lo so, perché se non il MacBook Air è un prodotto da presentare in primavera, come fanno già da 2020, perché è un prodotto medio, di fascia media, quindi da presentare in primavera, per come farebbe Apple, però, boh, anche lì, magari, cambiano idea, infatti, è perché il peak performance, soprattutto lo sfondo dell'evento del logo nero, mi sta di professionale, infatti, vi vorrei far notare che nei vari eventi, parto dal 2020, senza non si era la WWDC, L'evento di settembre, in cui presentarono iPad Air, iPad 9, Apple Watch SE, Apple Watch 6, aveva il logo, nell'indito, lo sfondo bianco, infatti, hanno presentato prodotti di fascia media. Poi, evento iPhone 12, sfondo nero, evento Mac M1, sfondo nero, evento primavera 2021, spring loaded, sfondo bianco, evento degli iPhone e dei Mac di quest'anno, sfondo nero, però anche quest'ora c'è lo sfondo nero, quindi cosa dovremmo dedurre? Che verremo prodotti professionali? Oppure non ci sarà più questa distinzione? Perché se non vi so gli error, proprio non ne parleranno neanche, perché alla fine è troppo presto, non solo non ha senso parlarne primavera, o lo fai a gennaio, magari Apple ALCS, non lo so, oppure fai l'evento come hanno fatto per i prodotti veramente importanti, come iPhone, iPad, MacBook Air, nuovo nel 2008, a quel punto però non lo fanno da tanto, quindi ne dubito, lo facevano quando c'era il carissimo Steve Jobs, quindi presenti anche quello a gennaio, e quello sarebbe veramente bello, oppure presenti con i nuovi iPhone, a comunque autunno, che è il momento dove ci sono le cose belle, se no alla WWDC, che sarebbe un prodotto buono anche per sviluppatori, quindi... Eh, però proprio l'evento di primavera è l'unico momento in cui io non lo vedo adatto, però non stiamo parlando di quello, quindi distacchiamoci un attimo. Per questo evento vedremo sicuramente almeno due Mac, ma c'è da capire quali due Mac, perché abbiamo tantissime alternative, come abbiamo visto, per processioni nuovi non fanno presentare nulla di nuovo professionale, ovviamente, perché hanno presentato ovviamente l'M1 Max e l'M1 Pro, quindi, cioè, ovviamente no, però possono ovviamente giocare su un sacco di cose con l'M2, presentare cose che nessuno si aspetta, metterlo in un iPad Air, mettere l'M1 in un iPad Air, fare... cioè, è tutto un bordello gigantesco, soprattutto ora che è uscita questo leak del Mac Studio, che anche lì dobbiamo capire dove metterlo, perché se l'evento, fine 2022, anche lui uscirà, è tutto ciò da capire. Con il Mac Pro, dubito che lo presentino a questo evento, stesso discorso di prima. iMac Pro, in effetti, è passato un anno, quindi per me aveva senso che lo presentassero ora, e infatti, se non è, l'Mac Pro potrebbe, in minima parte, un 5% arrivare a questo evento. Non lo... secondo me sarebbe il Mac professionale probabile, fra i vari, è l'unica cosa, perché o vanno con il Mac Studio, che comunque sarebbe un Mac Mini Pro, quindi avrebbe senso, oppure vanno di iMac Pro, però noi i MacBook non vanno su uno dei professionali, se no altri Mac non vanno su uno dei professionali, se no fanno MacBook Pro M2, 13 M2 e Mac Mini base M2, quindi sono le due grandi opzioni, queste due, o iMac Pro e Mac Studio, o vabbè, Mac Mini Pro, oppure MacBook Pro M2 e Mac Mini M2. Quindi sicuramente un Mac Mini presente lo vedremo in questo evento, è l'unica cosa che vi do per cercare, non so con cosa, non so come, però lo vedremo, è l'unica mia certezza per questo evento, ovviamente l'iPhone SE, perché, vabbè, raga, l'iPhone SE è uscito ieri un video a riguardo, sta andando molto bene, sono molto, molto contento, ne farò a... no, no, basta, domani uscirà un video, non so che video, penso un vlog, sì, domani esce un vlog, poi martedì ovviamente il super recappone gigantesco pre-evento, che arriverà anche lì verso le 16 forse, perché proprio, così anche perché sai, la mattina dell'evento sono sempre un po' di cose, e nulla, raga, lasciate like, mi raccomando, è che questo video, cioè, quant'è che sto registrando tanto, cazzo, cioè, basta, 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 se non vi faccio troppi tempi mentali, basta, ciao.